venditalia 2024 continua in questa manifestazione biennale che in questa occasione si presenta a ro per la prima volta ci sono tantissime novità siamo lo stand della flow spa che da questo momento proprio da questa occasione cambia nome perché si chiama flow group siamo in compagnia di lorenzo bassi il responsabile commerciale dell'azienda che saluto buongiorno e bentornato ciao a tutti grazie fabio benvenuto a te nel nostro stand grazie per l'accoglienza io sono circondato da collaboratori in bella mostra mi sembra davvero di essere in uno stand con dei manichini e potrete vedere proprio attraverso questa immagine che loro mostrano ognuno la novità del settore cosa presentate quest'anno lorenzo allora la continuità di quello che possa essere il progetto hybrid che diventa finalmente r hybrid finalmente primo bicchiere con la plastica reciclata e alfa che è l'evoluzione del bicchiere in carta dove noi possiamo trovare veramente un bicchiere che realizzato al 100 per cento in carta con una coating minerale che sarà un compostable industrial compost e sarà questa la grande novità già approvato dalla comunità europea per non pagare plastic tax e poter essere utilizzato in quei paesi dove sono presenti divieti e ce ne parla a questo punto fabio mori che è alla tua destra buongiorno fabio bentornato aspetta ti copro un attimo lorenzo buongiorno e bentornato buongiorno fabio buongiorno a tutti questo è il bicchiere di cui parlava lorenzo poco fa questo si è il primo bicchiere unico che ha 0 per cento di plastica perché impermeabilizzato con dei minerali come la silice ed è un in questo caso 160 cc è giusto esatto 160 cc che va a sostituire il 5 once o il 6 once del bicchiere vending ma non è l'unica novità che presentate in questa occasione esatto anche perché questo bicchiere si combina perfettamente con la nostra paletta in carta per creare un concetto di riciclo integrato dove paletta e bicchiere in questo caso possono essere riciclati insieme nel contenitore della carta la paletta realizzata con la stessa identica tecnologia quindi impermeabilizzata con silice grazie alla collaborazione con l'azienda quarzo che stiamo portando avanti ormai da diversi anni alla mia sinistra invece abbiamo altri due collaboratori dell'azienda li presento io direttamente alberto emi buongiorno alberto buongiorno a tutti voi grazie mille allora raccontaci che cos'è questo gioiellino che tieni in bella vista nella tua mano questa è la versione 150 evo del prodotto hybrid del bicchiere hybrid che è un bicchiere il primo bicchiere con plastica riciclata all'interno quindi è la vera novità del assieme ad alfa della fiera di venditalia e anche questo per la distribuzione automatica ovvero per i distributori automatici è macchinabile è assolutamente collaudatissimo e soprattutto è il bicchiere più sostenibile che ci sia sul mercato e infine marco pecoraro andiamo avanti che cos'è questo bicchiere marco questa è la nuova versione dell'hybrid che appunto cambia nome in r hybrid in quanto il primo bicchiere sul mercato con plastica riciclata perfettamente compatibile con la vecchia serie hybrid è un prodotto anche in questo caso più che collaudato e direi anche di grande successo grande successo 40 per cento di co2 risparmiata per ogni erogazione e un 10 per cento di plastica riciclata all'interno grazie marco ritorno a questo punto al centro fra tutti voi lorenzo l'immissione di queste novità sta facendo crescere ulteriormente la flo che abbiamo appena detto da oggi si chiama flow group esatto flow group perché racchiude le esperienze di tutte le aziende che già partecipavano a quello che poteva essere il perimetro flow quindi benders flow europe is a packaging e ovviamente flow grazie e allora diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica nel caso in cui desiderino entrare in contatto con voi per avere maggiori informazioni e chissà iniziare ad essere una relazione commerciale per l'inserimento di questi prodotti all'interno dei propri distributori automatici oppure oppure semplicemente per commercializzarli allora abbiamo rinnovato recentemente il nostro sito web come flow group quindi www.flowgroup.eu dove si possono trovare tutte le informazioni tutte le presentazioni dei prodotti che sono appena stati presentati e una mail che è info flow.eu per qualsiasi tipo di contatto grazie grazie lorenzo e allora io vi lascio in questa bellissima immagine con loro che espongono in primissimo piano ognuno il proprio prodotto loro sono i vari responsabili di prodotti nazionali lorenzo fabio alberto marco grazie grazie mille e ci vediamo prestissimo attraverso gli strumenti di vendintv.it vendinews vendinews.it e tutti quelli che sono dedicati alla distribuzione automatica